Buongiorno amici e ben ritrovati, oggi abbiamo una cosina un po' particolare, è una riparazione un po' diversa dal solito, andiamo a scoprirlo insieme. Ecco qui una bellissima Polaroid, questa Polaroid è di Federica, ciao Federica, e mi diceva lei che il problema non si accende, non va, non carica e non funziona niente, quindi alla fine dobbiamo capire, ma secondo me il problema o è qui nel connettore o nella batteria, perché questa macchina fotografica non è mai caduta, è rimasta soltanto un po' ferma e poi non si è accesa più. Andiamo ad aprirla insieme, vi faccio vedere come si fa, apriamo lo sportello LCD tirando su questa leva e poi subito all'interno abbiamo qui una vite con un giravite di tipo PH00 riusciamo subito a svitare questa vite, eccola qui, la mettiamo da parte, con un plettro adesso andiamo a togliere la cornice che gira intorno senza paura, è un po' come quando si toglie la cover del telefono, ecco qui, se vi da fastidio aprite anche il flash, una volta rimossa la cornice, ecco qui si toglie così, la mettiamo da parte, troviamo altre viti all'interno sotto la cornice qui, poi qui, un'altra qui e un'altra qui, in teoria sono soltanto quattro viti, vediamo insieme quante sono, una, due, tre, e poi abbiamo la quarta qui, e adesso dobbiamo rimuovere, qui si è già aperta, la cover frontale, togliamo anche il tappo, è molto bella ad aprire questa macchina, molto facile, ed ecco qui la macchina è stata aperta, la prima cosa che dobbiamo fare è quella di capire se il connettore di ricarica è rotto e non carica la macchina, quindi come dobbiamo fare, per prima cosa vado a rimuovere la batteria, per prima cosa vado a rimuovere la batteria, una volta rimossa la batteria, vado a testare se qui sui contatti del più di alimentazione, arriva l'alimentazione dal cavo usb, quindi vado a prendere il multimetro e misuriamo le tensioni, con il multimetro vado a misurare se abbiamo un po' di alimentazione all'interno di questa batteria, controlliamo, no niente da fare, non c'è alimentazione, questa batteria è completamente scarica, a questo punto vado a smontare la scheda madre e vado a controllare il connettore perché la pila non carica e anche qui non arriva alimentazione, vediamo un po' qual è il problema. Per togliere la scheda logica e controllare qui sotto al nostro connettore devo per forza di saldare questa massa quindi non sono di mano ma vediamo insieme ok poi vado a rimuovere il connettore cercando di non romperlo tirando piano piano ecco qui poi abbiamo delle vitine nere una qui una qui vediamo se ce ne sono altre è un'altra di qua quindi una due e tre vitine una una un po' qual è ed ecco qui finalmente il connettore rimuovo il flat ok e controlliamo qui se c'è qualcosa che non va a guardare così ragazzi sembra che tutto ok che non c'è niente di rotto facciamo questa prova puntale a massa puntale 1 sul più andiamo a vedere abbiamo i cinque volte quindi dopo il connettore arriva l'alimentazione proviamolo sul diodo sul diodo della scheda madre c'è alimentazione anche qui quindi il connettore ok porta l'alimentazione dopo c'è un circuito che va a ricaricare la pila però se queste pile sono elettroniche e sono magari un po' particolari forse sarebbe bene prima di provare a ricaricare la pila separatamente dal circuito che lo fa ricaricare e poi andiamo a vedere un po' che cosa succede dopo aver controllato il connettore di ricarica il risultato negativo quindi alla fine il problema non è dopo il connettore di ricarica perché non è rotto quindi alla fine l'alimentazione procede va avanti va fino al suo circuito di ricarica per la batteria ma la batteria non si carica dunque un po' di anni fa quando c'erano ancora gli iphone 4 le batterie nuove che compravo le montavo e non funzionavano perché perché restavano per troppo tempo nei magazzini le batterie erano completamente scariche e poi anche quando le andavo a montare non si ricaricavano questa macchina fotografica è rimasta ferma per qualche mese quindi alla fine la batteria si è scaricata il circuito di ricarica qui forse è un pochino scadente e che cosa succede succede che la batteria poi non si attiva più dunque per riattivare la batteria almeno io ci provo prima di cambiarla voglio provare con il vecchio sistema quindi con il puntale rosso e nero collegati a un alimentatore da banco io adesso lo metto su 9 volt vado a svegliare un pochino vado a svegliare un pochino la batteria utilizzando il puntale più sul più e puntale meno sul meno per qualche secondo tengo l'alimentazione in questo modo da poter ricaricare anzi diciamo svegliare un po' il circuito e provare a ricaricarla poi con la macchina io ho già collegato il tutto per qualche minuto quindi la batteria è già stata attivata proviamoci perché tanto alla fine non costa niente quindi vado a inserire la pila all'interno della macchina fotografica con il cavetto collego il cavetto di alimentazione adesso vado a prendere il tester lo metto qui vicino così lo possiamo vedere tutti insieme stavo dicendo con il multimetro ora vado a misurare al connettore se arriva l'alimentazione fornita dal connettore perché prima se vi ricordate ho fatto questa prova e l'alimentazione sul connettore non c'era quindi vado a inserire il connettore ok connettore inserito e adesso vado a misurare se arriva l'alimentazione sul connettore della batteria voi lo vedete qui puntale meno sul meno puntale più sul più perfetto amici guardate adesso abbiamo finalmente i volt corretti per ricaricare questa pila quindi non mi resta altro che aspettare che si ricarichi per benino la batteria con il suo circuito originale e tra pochissimo tra un dieci minuti riattacco con il video vi faccio vedere un po che cosa è successo siete pronti dopo circa dieci minuti andiamo a vedere batteria ricarica perfetto ragazzi il problema era proprio la batteria che non era attiva quindi alla fine con quel trucchettino nel vecchio iphone 4 si è attivata la batteria è molto bella questa macchina fotografica federica sarà molto contenta bene ai ragazzi macchina fotografica riparata like meritato ci vediamo la prossima vi raccomando come dice valerio spolliciate spolliciate